.goldshop, il negozio online preferito dagli sportivi. www.goldshop.com L'impresa di Corpolò aveva galvanizzato tutto l'ambiente del Villa Verucchio che grazie al gol realizzato in apertura da Di Benedetto si era issato in quarta posizione a meno 5 dalla vetta del girone O di seconda categoria. Guarda caso proprio la posizione occupata dal San Bartolo Gabic Mare, quest'oggi avversario di un Villa Verucchio che al minuto numero 3 coglie una traversa clamorosa con Manfroni. Si salvano dunque gli ospiti che devono sostenere l'impatto di questo match e al quinto minuto della prima frazione trovano un'altra soluzione per evitare il gol, quello di Zaghini. Palla di poco sul fondo. Ottimo il Villa Verucchio nella prima frazione. 27esimo, arriva il gol realizzato da Mazzocchi. In corsa, stoppa il pallone, conclude di prima intenzione, batte il portiere degli ospiti. Si porta così in vantaggio la squadra padrona di casa che cerca il bis con questo cross sulla secondo palo. Manfroni conclude debolmente, blocca senza problemi il portiere. Forti. E allora andiamo nella ripresa ancora in attacco il Villa Verucchio, ancora a cercare il bis e a trovarlo con Del Prete. 2 a 0 il punteggio match sostanzialmente incanalato anche se c'è ancora tempo per quanto riguarda il San Bartolo, ma sicuramente serve un cambio di passo per quantomeno riaprire l'incontro. Ci prova con questa mischia clamorosa, alla fine quasi da portiere, l'intervento del centravanti del Gabicce che però viene sostanzialmente fermato dal direttore di gara. E poi le proteste in area di rigore, il fallo commesso secondo l'interpretazione del direttore di gara, però al limite dell'area si resta dunque sul 2 a 0. Si resta anche dopo questa conclusione dal limite che viene ribattuta in out, quella di Ponte. Andiamo allora al 76esimo, il break del Villa Verucchio con il contropiede impostato e rifinito sulla sinistra per questa conclusione alta sulla traversa, quella di Moroni. Ottantesimo minuto San Bartolo che ancora ha necessità di trovare il gol che possa riaprire il match, fa tutto bene, in questo caso Pasculli, Sebastiani gli dice di no. 82esimo ancora il San Bartolo Gabicce Mare con questo pallone manovrato sulla destra, alla fine è debole però la conclusione di Mastrangelo. A 5 dal termine il Villa Verucchio potrebbe trovare anche il Tris ma spende un fallo terminale letteralmente Albertini ai danni di Mazzocchi, per lui arriva l'inevitabile cartellino rosso che segna in maniera sostanziale la fine anticipata del match con il Villa Verucchio che conduceva già sul 2 a 0 e che porta dunque a termine questa vittoria con questo punteggio e così sale letteralmente in classifica.